ah di là di là di là di là spampi di là c'è un po' di là Così? Eh, la piace. Volevo abbracciarla. E va bene. Perché abbiamo lavorato il cobericcio. Il cobericcio non lo potete lavorare. Perché dopo non andiamo a terra. Quello ho visto dove l'hai corretta. Tu l'ho fatto senza fermarmi. E io volevo farlo così. Eh no, ma dovevi... Sì, io ti ho visto a te che era stretto ma allargato. L'ho fatto. Io ho sbagliato io perché volevo farlo quella più alta. Eri molto meglio, ma molto, molto. C'è cazzurato. Eh, perché quando non sono un giorno, ti volevo fare un po' sempre. Molto tanto. Adesso dobbiamo trovare il sentiero e andare in là. La settima... Sevei. Però, no, aspetta però. Perché dobbiamo... Dobbiamo andare fino a là. Perché di qua non è pulito. Ma dove ci siamo persi? No, ma dobbiamo passare di là e dopo tagliarla. Perché di là l'ho già pulita tutta io. Di qua non l'ho pulita. Dobbiamo arrivare dove c'è lì il tronco di traverso. Dobbiamo arrivare là. Vabbiamo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Oppalo, oppalo, vai alla grande. Dovrebbe pulirla. Però hai visto che c'è? Una volta là con tutto quello che c'era. Da po', bisogna mettere il culo dietro. Quanto si fanno le ticine, c'è un ottimo Severino. Il culo dietro, non lo Severino. Trappai o veicoli? Ma si sono intrappolati in due adesso. Come spostare la moto? Qui bisogna farla lasciando i tronchi da saltare. La chiameremo quella dei tronchi. Capito? Sì, però vedi che l'ho pulita tutta. Ormai c'è. Grazie. Grazie. Grazie.